Sicuramente credo che sia il risultato per cui il Modena era voluto qui. Noi volevamo fare sicuramente un altro tipo di partita e senza secondo me trovare tanti alibi, scuse, insomma non siamo riusciti a farla e alla fine è arrivato questo 0-0 che lascia un po' di amarezza perché volevamo vincerla e non ci siamo riusciti. Preferirei avere sempre io 20.000 dalla mia parte piuttosto che andare fuori e giocare con 20.000 davanti. C'è la gente più di quello che sta facendo, credo che non gli si può chiedere niente, sta a noi. Avere la forza, avere la serenità per gestire queste partite, è bello poter giocare, è bello fare anche il nostro mestiere per fare questo tipo di partite. Avere due risultati come il Modena piuttosto che averne magari uno come avevamo noi è più difficile da sorreggere. Però il rammarico è quello di aver fatto meno di quello che potevamo fare. Quando una partita nasce così ci può essere magari anche il rischio di magari perdere addirittura. Non è stata una partita con pochi di rimporto a tutte e due le parti, è una partita come dici te contratta e ci dispiace non essere riusciti a vincere a casa. Adesso ci prepareremo bene, andiamo fuori, cerchiamo di fare il risultato a Cagliari e vediamo di chiudere bene con il Como. Sicuramente non regalere a nulla, credo che da parte loro ci sia ancora la possibilità di giocarsi in primo posto. Quindi sappiamo che è una partita sicuramente difficile contro una squadra fortissima che ha vinto il campionato giustamente. Quindi sta a noi prepararci nel migliore dei modi, cercare di andare a fare la partita, cercare di raccogliere il maggior numero di punti possibili senza fare ormai tanti ragionamenti. Ecco, c'è da andare, fare la partita e tornare con dei punti.